Ad aprire le danze nella sesta giornata del campionato di eccellenza ci sarà la sfida tra il rinnovato Città di Avellino allenato da Sgambati e il Grotta di Mister Messina, terzo in classifica a 10 punti che ha messo nel mirino l'Audax Cervinara a capolista. Una sfida per i bianco-verdi che si sono privati di giocatori importanti, proibitiva. L'altro incontro in programma è quello tra la Forza e Coraggio, che questi giorni ha ufficializzato l'arrivo dell'esperto Bomber Poziello con un passato anche in Serie C e in Serie B con le maglie di Berletta e Marcianise e il Pomigliano. Domenica, il primo match in programma è quello tra Saviana e Virtus Ponticelli. La capolista d'Adox Cervinara, che si affida alle qualità di Russo Lille e Petrone, sfiderà tra le mura amiche il Lions Mons Militum, formazione che fino a questo momento ha ottenuto 6 punti. Interessante la gara tra i Lioni dell'ex Alleruzzo e la Virtus Avellino di Mister della Rocca, che si è accomodata al tavolo delle grandi. La Palmese va in casa della Cerrana, mentre la Vissariana Cadia, attualmente ultima a 0 punti, attende l'Ottaviano. Una gara assolutamente da non fallire per gli Ufitani, che con successo supereribbero provi per Tenopei, penultimi in gradatoria.